Accoltellamento di Don Francesco, la difesa chiede il rito abbreviato. Il paroco fu colpito lo scorso 5 maggio nella Basilica Marsicana dei Santi Cesidio e Ruffino. Isola del Gran Sasso, casa in fiamme, muore anziana di 81 anni, due feriti, scomparsa Giovina Mariano. Il PM chiede DNA sul nipote, la compagna dell'ex dipendente comunale. Caro Gasolio, sospeso lo sciopero della pesca, le barche lunedì tornano in mare, ma solo per due giorni a settimana, martedì, riapre il mercato ittico. Pescara è il giorno di Zeman, colloquio decisivo tra il DS Inpectore, Dellicarri e il boemo Teramo. Chierchia, amministratore unico dopo l'assemblea dei soci di oggi pomeriggio. Un cordiale saluto, il TG Abruzzo torna ad informarvi. Chiesto il rito abbreviato dalla difesa dell'aggressore di Don Francesco, il prete di Trasacco colpito con un coltello mentre pregava in chiesa. Sergio Cinquino. Rito immediato e rinvio a giudizio per Luigi Cellini, il 77enne di Trasacco che lo scorso 5 maggio avrebbe cercato di uccidere a coltellate mentre era in chiesa Don Francesco Grassi, parroco della Basilica dei Santi Cesidio e Ruffino di Trasacco. E questa la richiesta del pubblico ministero della procura di Avezzano a Maurizio Maria Cerrato che ha appena concluso le indagini su un episodio che ha scosso la comunità marzicana. L'avvocato difensore Antonio Milo del foro di Avezzano ha chiesto ora il rito abbreviato e la nomina di un perito che accerti se si tratti di tentato omicidio, se invece il reato contestato possa essere derubricato in lesioni volontarie. Secondo la tesi del legale sarebbero le ferite non gravi ad avallare la richiesta per un episodio avvenuto mentre il religioso stava pregando in chiesa con l'uomo che secondo la ricostruzione dei carabinieri avrebbe sferrato diversi colpi con un coltello inseguendo Don Francesco con minacce di morte. Il pensionato dopo essere stato rinchiuso nel carcere di Lanciano ottenne i domiciliari e il perdono dello stesso Don Francesco che ai nostri microfoni il giorno dopo l'aggressione chiese di pregare per lui. Lo perdona? Certamente, certamente, ti voglio bene. L'ha colpito con un coltello? Sì. Ma dove? Alla gola, alle mani e alla faccia. Adesso deve riposare? Sì. La ringraziamo intanto. Grazie a lei. Ringrazio tutti coloro che mi sono vicino e dico pregate per me. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il movente potrebbe essere collegato alla mancata rielezione del pensionato alla carica di vicepriore della locale confraternita del santuario della Madonna di Candelecchia. Siamo ad Isola del Gran Sasso dove un vasto incendio ha distrutto un'abitazione all'interno della quale purtroppo ha perso la vita un'anziana di 81 anni, due i feriti. Ascoltiamo la cronaca di Chiara Bonatti. Questa notte verso le 2 un vasto incendio ha distrutto un'abitazione privata a Isola del Gran Sasso non lontano dal santuario di San Gabriele della Dolorata. Il fuoco, partito dal tinello, si è propagato in tutta casa. Tempestivo è stato l'arrivo dei vigili del fuoco che si trovavano a Ornano per un intervento su un'auto andata a fuoco. Appena arrivati sul posto hanno messo in salvo un uomo di 85 anni e la figlia di 47. Non c'è stato nulla da fare invece purtroppo per una donna di 81 anni, nonostante il 118 ha cercato in tutti i modi di salvarla. Tanta la paura per chi ha vissuto da vicino quegli attimi. Io abito a qui vicino, ho un bello spavento, vi siete presi? Io abito vicino, mi ha spaventato tantissimo. Ecco, qual è stata la prima cosa che ha pensato e soprattutto lei alla casa possiamo dire abbastanza indenne da questo pericoloso incendio? Ho pensato subito di chiamare i vigili del fuoco, i soccorsi e salvare le persone che stavano d'entere e chiamare tutti i figli. Lei li conosceva e possiamo dire che il legame comunque è anche di parentela. Che cosa sta vivendo in questo mondo? Sono preoccupato, non ho dormito e mi dispiace per la signora che è morta e per la famiglia che si trova in difficoltà. E torniamo invece ad occuparci adesso della scomparsa di Giovina Mariano, l'ex dipendente del comune di Pescara di cui si è persa ogni traccia dall'8 marzo del 2017. Ebbene il PM ha chiesto ed ottenuto dal GIP l'esecuzione del prelievo del DNA sul nipote e la sua compagna che a richiesta si erano rifiutati di sottoporsi al suddetto esame. Sentiamo. La verità sulla scomparsa potrebbe celarsi nei profili genetici rinvenuti in casa dagli inquirenti. La procura di Pescara sta battendo tutte le piste per estringere il campo sul caso di Giovina Mariano, la ex dipendente del comune svanita nel nulla l'8 marzo 2017 dalla sua abitazione di campagna di Moscufo, la villetta dove gli investigatori hanno rintracciato diversi profili genetici. La PM Anna Benigni, titolare del fascicolo contro ignoti con una ipotesi di reato di omicidio, ha convocato nei giorni scorsi Alessio Mariano, nipote di Giovina e la sua compagna, che hanno vissuto in quella casa chiedendo la loro collaborazione nell'acquisizione del DNA. I due si sono rifiutati, continuando a sostenere che Giovina si sia allontanata volontariamente, pertanto potrebbe essere ancora viva. Eppure, anche il nipote, dopo l'esposto dei cugini della scomparsa che si sono affidati all'associazione Penelope Abruzzo, presiduta da Alessia Natali, dove collabora anche l'avvocata Raffaella Anzivino, aveva presentato denuncia per la scomparsa della zia. A questo punto la PM ha chiesto e ottenuto dal GIP Antonella Di Carlo un provvedimento specifico per richiedere forzatamente il prelievo dei dati genetici della coppia. I due, pertanto, dovranno presentarsi il prossimo 13 giugno nel gabinetto della Polizia Scientifica di Pescara per l'esecuzione del prelievo. L'obiettivo è quello di verificare l'eventuale compatibilità dei profili genetici trovati nella billetta con quelli dei cadaveri senza nome, per escludere che tra questi non vi sia il corpo di Giovina. Per casi di questa portata e di questa importanza e di questa complessità ovviamente c'è bisogno di agire in maniera razionale, con molta cautela, ragionando, studiando ogni piccolo dettaglio. Per questo motivo noi comunque continuiamo a rimanere in contatto con il PM, con la quale da quando ha preso in mano questo incarico abbiamo uno stretto rapporto. Siamo fiduciosi in quello che è il lavoro che sta svolgendo la procura di Pescara e attendiamo, attendiamo che ci possono essere ulteriori sviluppi. Noi siamo fiduciosi, gioia, vogliamo sapere che cosa è successo a gioia, non si può scomparire nel nulla. Gioia, anche se è stata uccisa, vogliamo sapere da chi, perché e quando soprattutto. Un pestaggio in piena regola e apparentemente senza motivi è avvenuto su lungomare di Alba Adriatica nella notte tra l'8 e il 9 giugno alle 2.30 del mattino. Da una prima ricostruzione su cui indagano i carabinieri, i tre ragazzi tiramani sarebbero stati brutalmente aggrediti da un branco di extracomunitari. Gli assalitori si trovavano in gruppo davanti ad una attività notturna quando esplosa la violenta rissa. Si attendono evoluzioni sulle indagini. Intanto è stata sporta dagli avvocati degli ULIS regolare quella della denuncia contro i responsabili del pestaggio ancora non identificati. E veniamo ora ai dati relativi al Covid, in riferimento ovviamente alle ultime 24 ore, nelle quali non si registra fortunatamente alcun decesso. Sono 513 i nuovi contagi in regione. Sergio Cinquino. Nessun decesso oggi in Abruzzo a causa del Covid, con 513 nuovi casi positivi in regione che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 410.344 persone che si sono ammalate di Covid. Il bilancio dei pazienti deceduti rimane così fermo a quota 3.344 vittime. Ci sono inoltre altre 600 guariti nelle ultime 24 ore per un totale di 390.262 guariti. Da inizio pandemia. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono così 16.738, meno 87 rispetto a ieri. Di questi, 150 pazienti, meno 9 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. E si svuotano anche le terapie intensive con un solo paziente ricoverato in regione, uno in meno nelle ultime 24 ore, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti anche 1.279 tamponi molecolari e 2.812 test antigenici, con il tasso di positività in salita al 12,53%. Dei positivi di oggi, 110 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 174 in provincia di Chieti, 139 in provincia di Pescara e 104 in provincia di Teramo e 2 fuori regione. Sospeso lo sciopero delle marinerie, dunque le barche torneranno a pescare a partire da lunedì, martedì, l'apertura del mercato ittico. Ce ne parla l'Ino Nazionale. Due giorni di pesca a lunedì con riapertura dei mercati ittici il martedì mattina e poi di nuovo in mare mercoledì per garantire il prodotto ittico fresco nel weekend. Sospeso al momento lo sciopero delle marinerie dell'Adriatico, decisione presa al termine di un vertice tra le delegazioni di armatori e pescatori di Marche, Abruzzo e Puglia che si è tenuto a Civitanova. Dopo tre settimane di sciopero per il caro gasolio, le marinerie hanno scelto la via del ritorno all'attività, ma per il momento, solo per due giorni, Giulianova ha appoggiato l'iniziativa in attesa di conoscere le decisioni che dovranno essere prese dalla conferenza Stato-Regioni in cui si parlerà della pesca in programma martedì prossimo. Al governo è stato chiesto di mettere sul piatto della bilancia aiuti concreti alla marineria costretta a fronteggiare l'aumento spropositato del costo del gasolio che in alcune aree ha raggiunto persino 1,40 euro al litro, un prezzo che costringerebbe le imprese di pesca a lavorare in perdita. Un'imbarcazione di oltre 60 tonnellate di stazza consuma ogni nottata di pesca sino a 1.700 litri di carburante. Il pescato catturato non garantirebbe la copertura dei costi vivi. Dalla Regione Abruzzo sono arrivati 300.000 euro di aiuti, più o meno 1.500 euro per ogni impresa di pesca, nulla rispetto alla crisi reale che la categoria sta attraversando. Le marinerie sono state chiare, subito sostegni e blocco del costo del carburante, non oltre i 75 centesimi al litro. Armatori e pescatori torneranno ad incontrarsi la prossima settimana per verificare nel frattempo cosa emergerà dalla conferenza Stato-Regioni. La sensazione è che se non arriveranno aiuti reali le marinerie dell'Adriatico, ma anche del resto d'Italia, incroceranno nuovamente le braccia ad oltranza. Giulia Nova, torniamo ad occuparci del caso del pedinamento del sindaco. Secondo il leader Franco Arboretti, chi ha filmato il primo cittadino, in realtà stava documentando la situazione di degrado di alcune aree di Giulia Nova. Lino nazionale. Il sindaco di Giulia Nova, Ivan Costantini, ribadisce la posizione dell'amministrazione comunale sui recenti fatti che hanno riguardato alcuni esponenti del cittadino governante che lo avrebbero filmato e fotografato durante i suoi momenti di vita privata con la propria famiglia. Secondo Franco Arboretti, leader del movimento di opposizione, in realtà chi ha filmato il sindaco stava documentando alcune situazioni di degrado della città, versione non credibile, tant'è che è stato presentato un esposto in procura. Costantini invita tutti ad abbassare i toni, anche perché spiare la vita degli altri non è consentito, né dalla legge, né dal buonsenso, né dalla coscienza individuale e sociale. Bisogna iniziare, secondo me, da parte dell'opposizione a Bassettoni, anche perché, guardate, io ve lo dico molto francamente, a livello politico e a livello numerico il modo di fare politica che stanno avendo le opposizioni non paga, non paga perché i cittadini di queste cose non interessa nulla, i cittadini vogliono sapere quali opere faremo nei prossimi anni, se andremo a pedonalizzare il centro dell'Ido, se collocheremo con la Bike to Cost e la frazione Villa Pozzone-Coloranesco, queste sono le cose interessanti. Costantini ha poi sottolineato come gli esponenti della sua amministrazione non abbiano mai utilizzato i social per attaccare i consiglieri, i leader delle forze di minoranza. Voi non troverete mai un post in cui noi attacchiamo personalmente qualcuno, noi facciamo politica, cerchiamo di parlare, cerchiamo di parlare in maniera propositiva alla nostra città, perché quello che vogliamo andare a fare è realizzare. Per me tutta la compagine che si contrappone a questa amministrazione sono degli avversari ma non sono dei nemici e non mi permetterei mai di dire dove è andato questa sera a mangiare quel consigliere o dove è andato ieri sera a fare sport quel coordinatore cittadino di una forza politica. Il Tar dell'Aquila ha rigettato la richiesta di sospensiva alla vendita della GST richiesta dal gestore temporaneo Marco Finori. Quali sono gli scenari sull'impianto di Prati di Tivo? Ci rispiega Chiara Bonatti. Il Tar dell'Aquila non ha concesso la sospensiva alla vendita della Gran Sasso Teramano richiesta dal gestore temporaneo Marco Finori. Le contestazioni del ricorrente andranno valutate da un giudice ordinario in quanto la Gran Sasso Teramano SPA è una società ammista che ha veste privatistica. Ora si passerà al Tribunale Civile ma nel frattempo si andrà avanti con i fratelli Persia. Guardi, noi siamo stati convinti di aver operato nel giusto e quindi di aver rispettato tutte le norme che ci consentivano di poter portare avanti questa liquidazione dell'ente. Ce l'abbiamo messa tutta quindi abbiamo valutato tutta una serie di circostanze adesso sì, certamente il Tribunale Amministrativo Regionale si è dichiarato incompetente su quello che era la materia che ci veniva anteposta da parte della FIRO del SRL quindi questo va a suggellare che noi nell'ambito amministrativo di fatto comunque non dovevamo sottostare a nessuna norma di riferimento. Quindi tutto è spostato sul Tribunale Civile quindi adesso la revoca è stata totale per quanto riguarda i provvedimenti quindi sono tutti quanti validi e noi andiamo avanti per stipulare quel contratto con il secondo partecipante per poter andare avanti e cercare di salvare la stagione estiva. L'idea dei fratelli persi o quella di ripartire entro luglio? Guardi, noi come vede noi abbiamo messo delle scadenze a stretto giro quindi con il coinvolgimento dell'Assemblea e ci stiamo cercando in tutti i modi di trovare la soluzione per arrivare ad una conclusione. La società Finori in base ad un contratto stipulato doveva riconsegnare i beni entro 30 giorni dall'assegnazione o comunque aggiudicazione ad altra ditta e in questo caso noi abbiamo fatto già la richiesta il 18 di maggio quindi entro il 18 giugno loro dovrebbero riconsegnare il tutto quindi stiamo portando avanti diciamo tutte parallelamente tutte le varie situazioni al fine di poter sperando bene che non ci siano delle situazioni perché questo purtroppo è la gran sasso della mano in questi ultimi anni ha avuto sempre dei colpi di scena finali quindi speriamo che non ci sia altro problema per poter chiaramente aprire la stagione estiva quanto meno i primi di luglio. E anche magari lavorare sulla stagione invernale. Beh guardi una volta che noi abbiamo dato l'input della gestione poi a quel punto è chiaro che chi compra avrà tutti gli interessi di portare avanti la stagione diciamo tutto i 12 mesi dell'anno perché a differenza di altri siti la nostra montagna è quella che più si presta ad essere diciamo visitata 12 mesi l'anno quindi chiaramente sì. La tua e la regione Abruzzo interverranno sulle autostazioni del territorio primo intervento a piazza San Francesco con un investimento di oltre 500 mila euro Chiara Bonatti 5 milioni di euro destinate alla riqualificazione delle stazioni per gli autobus in Abruzzo uno degli interventi più importanti sarà quello a piazza San Francesco a cui sono destinati circa 562 mila euro fa riferimento ad interventi del masterplan di riqualificazione delle diverse autostazioni in Abruzzo uno degli interventi più importanti naturalmente è quello di Teramo capoluogo di regione dove ci sarà la riqualificazione di piazzale San Francesco con lo stallo di 12 autobus la presenza di servizi diffusi barbi di etteria a sale di aspetto che verranno alla fine del percorso svolto da Tua che è soggetto a Tudore riconsegnati al comune di Teramo che è proprietario dell'area e sostanzialmente verranno gestiti proprio dal comune Inoltre si va verso una svolta green perché quello che un po' è quello che avete pensato è che la città deve essere usufruibile a piede o con mezzi ecologici Assolutamente sì è prevista la presenza di colonnine per quello che riguarda autobus elettrici ed il sistema è tale per cui questo piazzale sarà uno snodo importante perché c'è l'interferenza delle piste ciclabili e c'è anche la possibilità di interreagire con il progetto Movete che è un'altra realtà che in Abruzzo si sta sviluppando In questo momento Piazza San Francesco è una delle zone più degradate della città dove ci sono state operazioni da parte della polizia locale per smantellare giri pericolosi I lavori dovrebbero essere completati entro l'estate del 2023 Oggi siamo a Teramo per illustrare uno di quegli interventi che stiamo facendo su tutta la regione cioè la riqualificazione di autostazioni per fare in modo che le nostre città le nostre città più importanti siano al passo con i tempi e offrono un servizio sempre più efficiente dal cittadino Questa di Teramo sarà una delle migliori autostazioni perché prevederà delle soluzioni innovative Mi viene in mente la ricarica per le barche mi viene in mente la ricarica per le macchine e per i pullman elettrici Mi viene in mente tutta una viabilità all'interno del piazzale che elimina i pericoli che ci sono adesso Adesso purtroppo il piazzale San Francesco è un piazzale che è diciamo autogestito Adesso si prevederanno degli ingressi diciamo controllati ci saranno delle strutture che permetteranno anche di passare del tempo libero come un bar adeguato alle esigenze dei servizi igienici innovati quindi diciamo una stazione al passo con i tempi una stazione che consenta anche al cittadino al visitatore che perviene a termo di poter trascorrere il tempo necessario in tranquillità inizieranno a giorni gli interventi di ripascimento nella zona sud del litorale di Roseto parliamo ovviamente di erosione con lino nazionale come sempre il problema si ripropone ogni anno ed è sempre lo stesso la mancanza di spiagge sia per noi che per gli altri operatori di questa zona Sandro Maggetti titolare assieme alla sua famiglia del camping arcobaleno nella zona sud del litorale di Roseto anche quest'anno costretto a fare i conti con un arenile che non c'è più l'erosione qui è particolarmente accentuata e la speranza per sistemare qualche ombrellone legata al ripascimento morbido lavori che partiranno tra pochi giorni questa volta la sabbia verrà scaricata con i camion fortunatamente il comune quest'anno ci è venuto incontro anche se non era previsto hanno deciso di darci una mano anche loro con il ripascimento morbido fatto da terra questa volta quindi siamo stati abbiamo chiamato i mezzi per far ripianare il manto ghiaioso che è stato fatto tritare in modo da poter mantenere bene la sabbia speriamo a giorni arrivi questa sabbia benedetta in modo tale a poter iniziare a mettere qualche ombrellone a piacere dei nostri clienti e poi inizieranno anche i lavori a settembre di rifioritura delle barriere soffolte così ci è stato promesso sono stati messi a disposizione 900.000 euro circa per la zona sud di Rosè dal Pontile fino al Porto che facciano il loro effetto il sottosegretario di Annuntis ci è venuto veramente è venuto spesso qui e ci ha sempre sostenuto e tutto speriamo che vada avanti tutto e che faccia veramente effetto per una volta per sempre un calendario davvero fitto di eventi quello dell'estate 2022 ad Alba Adriatica scopriamolo insieme nel servizio di Alex De Palo il menù estivo degli eventi ad Alba Adriatica si preannuncia ricco sole e mare di giorno la sera musica teatro comicità cultura mondanità cinema e sport arricchiscono la proposta turistica albense l'assessorato al turismo del comune di Alba Adriatica ha presentato il cartellone degli eventi che accompagneranno i turisti fino a settembre attorno alle manifestazioni ruotano mercatini e appuntamenti culturali ci dice di più l'assessore Paolo Cichetti quest'anno finalmente diciamo una ripartenza tutto tondo quindi è un calendario che noi abbiamo fortemente voluto all'ingresso libero per tutti gli eventi è un calendario che speriamo che incontri il gusto generale delle persone c'è una particolare attenzione come ho sempre sostenuto e come ho sempre seguito come linea di sviluppo turistico dedicata allo sport finalmente tornerà il carnevale sarà una formula chiaramente adattabile a quello che è l'anno della ripartenza quindi avremo la collaborazione di un'associazione che ci curerà il tutto buon compleanno alba sarà festeggiata in maniera assolutamente vivace quindi ci sarà un concerto di musica anni 70 80 e 90 con artisti dell'epoca che si esibiranno dal vivo il pet pride che prenderà la scena sabato e domenica e che conta già centinaia di adesioni da parte dei proprietari dei nostri amici animali e la riconferma vado a memoria di Albatraz da parte della proloco spiaggia d'argento sarà un calendario degli eventi anche a misura di bambini e di famiglia anche questa è una riconferma cioè una linea che noi abbiamo preso fin dal primo anno quindi alba diatica città dei bambini ci saranno degli eventi dedicati la riconferma della rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli un'animazione settimanale sotto la pineta litorale e poi il 23 di luglio un evento a cui tengo moltissimo è la notte colorata dei bambini la pagina sportiva colloquio decisivo oggi tra il DS in pectore della Pescara Daniele Dellicarri e Zeeman per sancire quella che sarebbe la terza esperienza dell'allenatore Boemo sulla panchina della Pescara Sergio Cinquino oggi è il giorno di Zeeman per l'allenatore Boemo prende sempre più forma l'ipotesi di uno Zeeman 3 a Pescara che potrebbe diminuire realtà dopo il colloquio con Daniele Dellicarri che è già incassato nei giorni scorsi la disponibilità del 75enne allenatore di Praga già protagonista a Pescara nella stagione 2011-2012 con la storica cavalcata che portò alla promozione in a di un gruppo che aveva gente del calibro di Verratti immobile e in signe e poi nel 2014 quando le cose andarono meno bene anche se un esonero frettoloso interruppe il rapporto nel momento in cui le cose sembrava potessero decollare e sarebbero stati fino alla scorsa settimana proprio i non ottimi rapporti con i quali si erano lasciati Zeeman e il presidente Biancazzurro Sebastiani i motivi di un rallentamento della trattativa poi sbloccata nelle ultime 48 ore quando il presidente ha affidato a Daniele Dellicarri grande estimatore di Zeeman il compito della scelta dell'allenatore consacrando in sostanza anche l'incarico di direttore sportivo per Dellicarri che già nel 2011 lo aveva ricoperto portando proprio lui l'allenatore del 4-3-3 in riva all'Adriatico Dellicarri è convinto di riuscire nell'impresa di riportare Zeeman a Pescara ma tiene comunque calda anche la pista che porta ad Alberto Colombo ex Monopoli come piano B nel caso non dovesse essere trovato l'accordo per lo Zeeman 3 e anche con l'allenatore Brianzolo ci sarà un nuovo colloquio a breve una soluzione quella che porta a Zeeman che piace anche ai prossimi soci investitori italo-australiani che saranno in città a inizio settimana per suggellare l'accordo che porterà l'accordata ad entrare in società con il 35% delle quote e poi a salire entro due anni se come sembra Zeeman proverà a replicare l'esperienza con il Pescara resterebbe un altro anno in biancazzurro il giovane promettente Marco delle Monache non ancora diciottenne attaccante che la Sampdoria ha già opzionato e che lascerebbe al Pescara per un anno per valorizzarsi nel 4-3-3 del Boemo e restiamo sulla serie C nel pomeriggio si è tenuta l'assemblea dei soci della Teramo Calcio nominato amministratore unico Massimo Chierchia attribuendogli la delega a sviluppare un progetto condiviso si legge in una nota della società la cui attuazione sarà affidata al signor Davide Ciaccia finalizzato a iscrivere il sodalizio bianco-rosso al prossimo campionato di Lega Pro a dare continuità a dare continuità alla società l'auspicio è che le forze del territorio ed eventuali soggetti terzi possano dare il loro contributo nella realizzazione del progetto per il bene e la salvaguardia del club conclude la nota del Teramo e anche noi siamo alle conclusioni vi ringraziamo per averci seguito grazie ancora dell'attenzione e buon proseguimento di serata sul canale 79 arrivederci